Pogba torna a sorpresa. Squalifica annullata. Juve in festa e sogna di nuovo. Il ritorno in campo di Paul Pogbaa sembra ormai una realtà. Il centrocampista francese, dopo essere stato sospeso per doping l'anno scorso, è pronto a ribaltare la sentenza che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. La Juventus duramente colpita dalla vicenda potrebbe presto riabbracciare uno dei suoi talenti più brillanti, riaccendendo le speranze dei tifosi bianconeri. Le ultime notizie, confermate da un recente annuncio, hanno scatenato l'entusiasmo della tifoseria juventina. Pogba potrebbe tornare a vestire la maglia della vecchia signora già in questa stagione. Tuttavia bisognerà attendere l'esito dell'appello, che si preannuncia decisivo per il futuro del campione del mondo. Paul Pogba, assente da più di un anno a causa delle accuse di doping, potrebbe vedere la sua squalifica di quattro anni annullata. Le ultime indiscrezioni, riportate da fonti autorevoli come Forbes e TMBV, indicano che qualcosa potrebbe cambiare presto. Questa notizia è motivo di gioia non solo per Pogba e i tifosi della Juventus, ma anche per tutti gli appassionati di calcio che lo hanno ammirato sui campi di tutta Europa. In una recente intervista a Forbes, Pogba ha parlato del difficile periodo che sta attraversando, ma ha anche espresso speranza per un ritorno anticipato. Il ricorso in appello? Anche se non posso parlare molto di questo, tutte le strade portano alla data dell'appello. Fino ad allora il mio obiettivo è rimanere in forma e non vedo l'ora che arrivi l'appello, ha dichiarato il giocatore. Il ricorso in appello di Paul Pogba sarà determinante. La Juventus, che non ha mai smesso di sostenere il suo giocatore, attende con trepidazione il verdetto. I tifosi bianconeri, sempre vicini al loro beniamino, sperano di rivederlo presto in campo. In una dichiarazione carica di emozione, Pogba ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto. Il calcio ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria. Tuttavia, ho la mia famiglia, la mia fede, i miei amici e i miei fan che mi hanno sostenuto, il che rende le cose più facili. Andrà tutto bene. La sentenza potrebbe ribaltare le vessazioni subite dal giocatore e dalla Juventus ormai sotto attacco da tutti i punti di vista, che si è vista sottrarre uno dei migliori talenti dalla procura antidoping. Mentre aspettiamo l'esito dell'appello, la domanda che tutti si pongono è, Paul Pogba tornerà davvero a giocare per la Juventus in questa stagione? Le premesse ci sono tutte, ma l'ultima parola spetta al Tribunale nazionale antidoping. I tifosi bianconeri restano in attesa, pronti a sostenere il loro campione fino alla fine. E voi, cosa ne pensate? Pogba può fare ancora la differenza in questa Juve? Scrivetelo nei commenti!